È iniziato il campionato di Serie A di football americano. Da qui a giugno nove squadre si contenderanno il titolo di campione d'Italia. Anche Bologna ha la propria rappresentante nella massima serie. Sono i Warriors del presidente Maurizio Benassi e del coach John Knight. Inizia la nuova stagione dei Warriors, cosa vi aspettate? Quest'anno siamo molto ottimisti, è stata fatta una bella pubblicità degli americani, quindi siamo qua abbastanza numerosi e daremo anche noi il massimo sugli spalti per incitare tutti. Da quanto tempo li seguite? Io ormai ho 4-5 anni, poi dopo un paio d'anni ho cominciato a fare un po' di caos col tamburo e a seguirle un po' meglio. Per il bianco-blu un esordio sfortunato in casa contro gli Ox di Reggio Emilia. 33-40 per gli ospiti risultato finale, una sconfitta che però non ha demoralizzato in alcun modo i Warriors. Già proiettati alla sfida di sabato prossimo contro i Giants di Bolzano e ad un piazzamento tra le prime quattro in classifica da raggiungere per accedere ai play-off. Bella partita, peccato per il risultato finale. Sì, senz'altro l'impegno di Warriors è stato, niente da dire, peccato che l'aveva riscossa sia stata nel secondo tempo e quindi purtroppo il tempo per rimediare non c'era più. Sabato un'altra partita difficile a Bolzano. Sicuramente la trasferta è molto importante, soprattutto mantenere la concentrazione, non prendere la trasferta come una vacanza che spesso la trasferta tradisce dal punto di vista psicologico, ma rimanere concentrati perché a Bolzano sono sempre i campioni d'Italia, quindi è importante concentrarsi e dare il 100%. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.